Si chiama Ivi e sta per itinerari video interattivi. Il progetto, assolutamente unico in Italia, si basa su un nuovo modello di visita guidata per la città con l'ausilio della nuova tecnologia di occhiali OLED. L'utente sarà guidato in un percorso reale all'interno della propria città da guide esperte in materie storico-filosofiche, alternando la visita reale all'esperienza virtuale delle lenti OLED, indossando gli appositi occhiali per visionare spezzoni di filmati precedentemente girati. Il primo percorso, che ha per titolo I tinerari con Giordano Bruno, il rinascimento napoletano e la tradizione egizia segreta, è un'indagine sulle misteriose tradizioni esoteriche presenti a Napoli. Oltre a San Domenico Maggiore, le altre due visite disponibili per ora riguardano Cappella Pontano e Piazzetta Nilo. Testiamo una nuova tecnologia impiegata per valorizzare il nostro patrimonio artistico e culturale e direi che questo primato tecnologico in qualche modo va anche alla riscoperta di un primato che la città deve reclamare e vantare, quella di essere una città in cui i prolegomeni del rinascimento in qualche modo si sono manifestati, forse anche prima di Firenze. Intorno al patrimonio artistico e culturale può nascere una nuova consapevolezza del ruolo di Napoli nella storia ma anche nell'attualità, nella contemporaneità e quindi il rivendicare questi primati serve a riconquistare una coscienza di sé e quindi è un impegno di tutti quanti noi a costruire un nuovo futuro e una nuova prospettiva per Napoli. Alla fine della visita, infine grazie all'applicazione Aurasma, scaricabile da qualsiasi smartphone, è possibile approfondire la conoscenza del luogo accedendo a contenuti multimediali aggiuntivi. Per prenotare per ogni informazione è possibile consultare il sito www.projectivi.it.